Giuseppe Martino per il secondo weekend di seguito la RIM Sporta Cervetere vince una coppa, prima con il basket, con il palazzo, quest'oggi invece con voi che avete vinto questa finale contro il Serpione nettamente, eravate chiaramente in grande giornata. Allora diciamo sì, il basket alla RIM ha portato un sacco di trofei, era anche il momento per la pallavolo di portare una coppa a casa, siamo contenti di questo risultato. Ieri abbiamo disputato una gara un po' contratti, però siamo riusciti nel terzo set a uscire fuori dal momento di crisi e forse oggi siamo stati molto più rilassati, più tranquilli, siamo stati molto più consapevoli di quelle che erano le nostre possibilità. Sì, è una squadra che ha girato, è riuscito a prevalere in tutti e tre i parziali, quindi un bel percorso in vista anche di questa fase nazionale. Sì, diciamo che è già una fortuna stare qui oggi a giocare con tutto quello che è successo nell'ultimo anno. Diciamo che l'obiettivo della stagione era questo, arrivare a giocare alle finali, sicuramente siamo contenti del primo posto, ma già essere qui era il nostro obiettivo della stagione. Speriamo in un ripescaggio nella Serie C e poi il campionato italiano, diciamo le fasi nazionali, sarà una bella esperienza da giocare con i ragazzi e portare avanti il nome del Lazio in generale. Sarà sicuramente difficile perché magari sul territorio nazionale ci saranno squadre attrezzate, questo è un campionato che prevede anche la possibilità di giocatori di categorie superiori, Serie C, Serie B che possono giocare, quindi sicuramente alla fase nazionale incontreremo delle squadre molto preparate. Poi vedo che già c'è stato il gavettone, io l'ho chiamato prima di venire subito a fare l'intervista, l'hai andato allo spogliatoio? Sì, mi hanno fatto un gavettone, lo accolgo con piacere, ne vorrei avere di gavettoni durante l'anno come questo.